È stato ultimato il restauro del mammut danneggiato dal sisma del 2009, reso possibile dalla donazione della Guardia di Finanza con quasi 603.000 euro. Sta per essere completata la fase di rimontaggio del grande scheletro, dopo l'imponente intervento conservativo. In via eccezionale sarà possibile visitarlo domani e domenica all'interno del Bastione del Forte Spagnolo, una occasione davvero unica per le famiglie. È una grande soddisfazione poterlo presentare finalmente al pubblico. È stato un restauro molto impegnativo, di grande soddisfazione. Il restauro è finito, a fine aprile avevamo completato e rimontato l'esemplare, fuori delle estremità degli arti per i quali abbiamo ideato dei supporti più leggeri rispetto a quelli precedenti che erano in gesso. Soltanto in primavera sarà forse possibile, le cantiere permettendo rendere permanente la visita all'Elefants grazie ad un accordo con il direttore dei lavori del cantiere e del restauro del Castello Cinquecentesco. Il Malmuth si trova all'interno di un cantiere, il cantiere di restauro della Fortezza Spagnola. Quindi la nostra apertura è molto condizionata dalle operazioni che stengono svolte all'interno dell'altro cantiere. Noi sicuramente abbiamo ancora tanto da fare, la fase dell'allestimento che è in lavorazione, però deve svilupparsi anche perché la sala del bastione deve essere sottoposta anche a degli interventi di risanamento. Quindi non è possibile chiedere uno stralcio, cioè una messa in sicurezza proprio per poter fruire del Mammuth? Abbiamo fatto una riunione recentemente anche con il direttore dei lavori del cantiere e del Castello e con lui ci ha dato qualche speranza per poterlo aprire a primavera prossima.